Una sinergia sempre più stretta tra università e comune di Teramo farà crescere culturalmente ed economicamente il territorio. È un impegno che il sindaco Gianguido D'Alberto e il magnifico rettore Dino Mastrocola rinnovano ai cittadini terramani. Il sogno è quello di trasformare Teramo in una città universitaria pulsante. La convinzione è quella che l'università può dare molto anche al territorio nel quale insiste, quindi non solo formazione, non solo ricerca ma anche sviluppo economico. E penso che da parte di una città investire sulla propria università porti dei benefici enormi. Io ho in mente esempi storici tipo Urbino piuttosto che Perugia, proprio città che sono cresciute anche storicamente intorno alla cultura, intorno alla forza propulsiva della loro accademia. È questo che mi piacerebbe fare. Quindi è un punto di partenza, Teramo città universitaria è un protocollo, è un contenitore che dobbiamo riempire di contenuti. Servizi per i nostri studenti, riportare ad esempio attività culturali in centro, sinergie, ripeto, sinergie istituzionali per lo sviluppo. Una città universitaria è vivace solo quando i propri studenti la vivono a pieno. Per questo a Teramo c'è oggi un grande dibattito sul riportare in centro l'università. Il rettore Mastrocola è però categorico, il campus di Colleparco non si tocca. In centro torna la casa dello studente e in futuro il Dams nell'ex manicomio. Pensare di spostare l'intero campus che è diventato una struttura fondamentale e ineludibile non esiste come prospettiva. Riportare l'università in centro significa dare sempre più impulso alla cittadella della cultura, quindi recuperiamo l'ex manicomio, ovviamente trasferiremo delle attività legate fondamentalmente alla Facoltà di Scienza e della Comunicazione, però non pensiamo che Colleparco debba essere smantellato. Grazie a tutti.